9 Boat Tour 9 Boat Tour Il 9 Boat Elite, più leggeri e maneggevoli dei tradizionali Segway, sono utilizzati in modo semplice e intuitivo. Inoltre, all'inizio di ogni tour sono previsti 15 minuti di training. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato l'ideatore del progetto, Achille James Carratù. Allora, ci sono due possibilità per prenotare questi tour. Una è attraverso il nostro sito internet www.nibotnapoli.com e l'altra è attraverso il chiosco informativo, che è anche il punto di partenza dei nostri tour, che è situato esattamente di fronte all'uscita del Borgo Marinari. Venendo in quella zona si potrà appunto provvedere a prenotare un tour. Noi non fittiamo i mezzi, noi organizziamo dei tour guidati con accompagnatori turistici o con guide turistiche e con un'audioguida che dà tutte le informazioni rispetto alle zone che si stanno visitando e alle tradizioni della nostra città. Grazie.